Presentata questa mattina presso l'Università di Urbino, la Guida ai Servizi. Un nuovo strumento che vede la cooperazione fra Università, ERSU, Città di Urbino e varie organizzazioni dei commercianti della città. È una guida che propone agli studenti iscritti all'Università di Urbino tutta una serie di facilitazioni e informazioni. La guida è subito online presso il sito dell'Università di Urbino, uniurb.it e si parla di vivere, servizi, abitare, mangiare, muoversi, lavorare e poi la serie delle convenzioni con, attraverso il sito, anche la possibilità di localizzare i negozi, gli agriturismi, gli alberghi che danno convenzioni e quanto è lo sconto che viene praticato a ciascun studente. Dunque un modo per dare agli iscritti all'Ateneo Urbinate nuovi servizi e un maggior coinvolgimento e un benvenuto nella città universitaria del Nord delle Marche. Grazie a tutti.